Il primo maggio valga anche per le partite IVA, chiede Fratelli d'Italia. Noi siamo qui come Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale per chiedere rispetto e una stagione di investimenti per tutti i lavoratori, non solamente per gli iscritti al sindacato. Perché in Italia c'è un grande misunderstanding, si pensa che i sindacati difendano i lavoratori, in realtà i sindacati difendono i loro iscritti, che è un'altra cosa.